Buon salvoni appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Lucus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dove vado in live tutti i giorni domenica al venerdì dalle 19, sabato e domenica dalle 17 e oggi parliamo della Elenio Herrera Challenge Questa sfida, così come tutte le altre che vi porto come riassunto qui su YouTube vi ricordo che sono condotte sempre interamente in live su quella piattaforma viola quindi se volete seguirle step by step è lì che mi trovate tutti i giorni detto questo devo ringraziare Frenzy Colli che ha dato questa challenge per me e si è concentrato soprattutto sulla sfida di Elenio Herrera all'Inter quindi non il prima, non il dopo, anche perché l'apice di questo allenatore argentino è proprio con quella che viene ricordata alla storia come la grande Inter la squadra che negli anni 60 era la più forte che ci stava in circolazione stiamo parlando di una squadra che dal 60 al 68 ha vinto qualcosa come tre scudetti due coppe dei campioni e due intercontinentali siccome però Frenzy Colli mi segue e sa che non mi piacciono le sfide semplici mi dà solamente 5 anni a disposizione per vincere quello che ha vinto il mago ma questo vuol dire anche che la seconda coppa intercontinentale dovrà essere sostituita da qualcosa perché sapete che non è più un trofeo annuale, si gioca ogni 4 anni avremo a disposizione quindi solamente un'edizione a nostra scelta che dovranno vincere per forza, quella del 2025 la seconda va sostituita con due coppe a nostra scelta non possono essere supercoppe italiane, sarebbe banale ma soprattutto una delle due dovrà essere per forza un trofeo continentale quindi che ne so, una supercoppa europea, una terza coppa dei campioni, una coppa UEFA la seconda invece potrà essere anche un trofeo nazionale che ne so, un quarto scudetto, una coppa Italia che non ha mai vinto con l'Inter Herrera fa vincere all'Inter la sua prima coppa dei campioni ciò vuol dire che voi non potete prendere una squadra che ha già vinto una coppa dalle grandi orecchie quindi fuori Inter, Milan e Juve vi consiglio di fare come abbiamo fatto noi ovvero scegliere l'Atalanta perché è una squadra che non ha una grandissima storia ha vinto sì una coppa Italia ma non ha vinto ad esempio uno scudetto ed è una squadra con gli stessi colori dell'Inter, Lombarda quindi è perfetta per provare a fare questa challenge già ma non è certo finita qui perché non potete utilizzare qualsiasi tattica vi passi per la mente questi successi dovete ottenerli ricreando il modulo di Elenio Herrera una tattica desueta oggi perché si tratta del catenaccio anche se per l'epoca era abbastanza moderna visto e considerato che mentre molte squadre ancora marcavano a uomo Elenio faceva marchare a zona dove si sfruttava tantissimo il contropiede dove i lanci lunghi da difesa facevano innescare subito la manovra offensiva sì perché ovviamente il pallone viaggia più velocemente dell'essere umano quindi niente di Kitaka la palla a terra ci può stare al massimo da tre quarti a salire dove bisogna sbagliare il meno possibile partiamo quindi dalla tattica proviamo a spiegare questo disegno che per alcuni potrebbe sembrare un po' strambo però ricordiamoci che uno stiamo ricreando un modulo degli anni 60 due che purtroppo dobbiamo anche fare i conti con i limiti di gioco per esempio l'Inter utilizzava Guarnieri ma lo utilizzava non in questa posizione in realtà lo metteva davanti a Picchi che era il libero della squadra ora su FM non si può piazzare un difensore in questa posizione perché automaticamente viene calcolato come centrocampista e quindi poi bisogna scegliere un ruolo di centrocampo ora con il Napoli rebuilding se vi ricorderete avevamo lo stesso problema libero e difensore davanti come l'abbiamo risolto? abbiamo messo un centro mediano metodista che è un particolare centrocampista che si abbassa quasi sulla linea difensiva per andare ad impostare il problema però è che qua ci sta già Tannin che ho dovuto mettere molto vicino alla difesa quindi mi sembrava una forzatura esagerata ho deciso qui di optare per il difensore centrale ma l'ho messo in marcatura perché il difensore centrale in marcatura è un particolare difensore che sale infatti se noi andiamo a vedere tra le istruzioni non c'è fisso il tenere posizione dovete al massimo aggiungerlo voi questo significa che il giocatore andrà a salire ed è quello che appunto faceva il ragazzo quando stava in questa posizione per quanto riguarda invece Burnic spesso lo si intende come terzino attenzione però terzino per l'epoca non è il terzino di oggi terzino nasce come parola che significa terza linea perché si utilizzavano termini militari all'inizio quando si inventa il calcio questo perché esisteva la linea di difesa la linea di centro campo e la linea d'attacco quindi in realtà Burnic non era un terzino vero e proprio era un giocatore che giocava sicuramente accanto a picchi ma non giocava estremamente largo quindi ho preferito anche in questo caso mettermi con il difensore centrale in marcatura ma in questo caso ho optato per una scelta un po' diversa se noi andiamo su Burnic come potete notare ci sta anche se è più largo cosa che non ci sta su Guarnieri questo perché Burnic in questo modo mi va ad allargarsi e andare a recuperare un po' questa zona che altrimenti è scoperta perché come potete appunto notare qui ci sta il jail di turno che va a tutta fascia quindi lascerebbe un buco che quindi va a coprire il signor Burnic Tannini era una sorta di equilibratore un recupero a palloni l'ho pensato incontrista per i ruoli che ci sono oggi su FM poi troviamo Suarez che era il metronomo era il regista quello che permetteva le geometrie poi all'Inter uno dei giocatori più forti dell'epoca pensate che ancora ad oggi è l'unico spagnolo ad aver vinto il pane d'oro se mettiamo da parte di Stefano che era un riundo sulla sinistra troviamo Giacinto Facchetti forse il primo vero interprete del ruolo del terzino fodificante andava a sovrapporsi a Corso trasformandosi in ala vera e propria e lo poteva fare perché ovviamente Corso che era un giocatore estremamente anarchico estremamente estroso lo trovavi sempre ad accentrarsi o al centro o addirittura sull'out di destra era quello di maggiore libertà di movimento non si sposava perfettamente con la filosofia di Arrera perché era uno che voleva avere sempre tutto sotto controllo ed è per questo che ogni anno lo metteva in lista trasferimenti solo che poi ovviamente Moratti diceva non penso Mazzola è forse la più grande trasformazione del mago un'intuizione geniale parte come cielo campista storicamente questo ragazzo ma poi diventerà addirittura attaccante con Erenio Herrera questa era una delle più grandi abilità di Erenio Herrera cioè quello di entrarti nella testa e dirti determinate cose fino a martellarti e fartici credere Mazzola non pensava di poter diventare attaccante non lo voleva fare e invece si scoprirà un fantastico interprete se Mazzola sfruttava però più la tecnica l'attaccante vero e proprio che sfruttava il fisico era invece Milani almeno inizialmente poi arriverà anche però giocatore però spagnolo che verrà utilizzato più nelle coppe visto che all'epoca nel campionato italiano potevi utilizzare semplicemente due stranieri e il primo abbiamo detto era già Suarez spagnolo l'altro invece era il brasiliano Jair uno dei giocatori che faceva la riserva di Garrincia in nazionale andava tutta fascia era però soprattutto utile in fase di spinta queste sono le istruzioni in fase di possesso almeno per quando riguarda la fase iniziale di questa costruzione tattica per esempio utilizziamo il gioco alla panne di spazi purtroppo abbiamo incontrato diverse difficoltà nei primi mesi quindi poi l'abbiamo torta e abbiamo ripristinato il classico a portare il pallone in aria dopodiché ci sono i passaggi poco più corti però attenzione abbiamo detto l'Inter utilizzava passaggi lunghi soprattutto nella zona difensiva mentre più corti sulla tre quarti quindi abbiamo impostato questo ma poi abbiamo fatto un lavoro differente sul singolo guardate come Guarnieri ha i passaggi diretti sul discorso per Piqui, Burnic, Tannin e Suarez mentre come vedete sulla tre quarti non è più impostato il passaggio diretto per i giocatori che stanno sulla fase offensiva perché ovviamente il passaggio corto come ci insegna Sacchi è più difficile da sbagliare quindi qui l'Inter utilizzava quelli corti qua invece quelli lunghi l'Atalanta ha diversi giocatori interessanti che avrei voluto provare e testare fino in fondo ma arrivano delle offerte importanti quindi noi riusciamo ad incassare circa 140 milioni sì il totale è ancora più alto ma dipende dal fatto che alcune operazioni giustamente sono già fatte prima che voi arrivate arriva questa offerta per esempio di 55 milioni per Duvan Zapata cosa fai? non ne approfitti scegliamo Duvan Zapata non era stato messo sul mercato arrivano anche altre offerte dico ma sai cosa? proviamo a reinvestire tutti questi soldi magari i giocatori promettenti in stile Atalanta Atalanta le volte prende giocatori magari sconosciuti altri invece conosciuti ma non ancora formati fino in fondo mi dico è vero in 4 anni dovremmo vincere tutte quelle cose dovremmo essere già pronti ma proviamo a utilizzare lo stile Atalanta quindi i primi 4 sono nomi molto grezzi Enrique Araújo difensore del Benfica Thomas Araújo poi anche attaccante del Benfica Popescu prelevato dall'Europa dell'Est Zagaritis dal Parma sono tutti giocatori molto giovani poi arriva qualche altro giocatore sì giovane ma un po' più avanzato nella crescita come Eva Nilsson dal Porto Yunus Musa dal Valencia Nianzu dal Bayern Monaco Mattia Viti dall'Empoli che vi straconsiglio Damsgaard dalla Sampdoria qui pagato anche abbastanza ma mi piace tanto come giocatore anche real life e poi Salvatore Esposito che si riesce a prendere sempre a 4 spicci e questi sono gli 11 giocatori che hanno giocato maggiormente in questa prima stagione con Muriel se vogliamo fuori ruolo perché certo non è un flucco di gioco in attacco ha comunque fatto 25 reti ma diciamo che in quella posizione sarebbe solo più utile utilizzare Enrique ma che fai ti privi di Muriel talento cristallino ovviamente non l'abbiamo fatto partiamo dalla Coppa Italia con un'Atalanta che supera il Lecce la Roma poi semifinale l'andata contro il Milan fuori casa 1-0 partita abbastanza equilibrata c'è ancora il ritorno dove accade l'incredibile ci bastava semplicemente pareggiarla questa partita e invece guardate cosa accade segna Daniel Maldini noi usciamo fuori per la rete del 3-2 al 93esimo del Milan con Daniel Maldini con questi stats il doppio di XG a nostro favore il doppio dei tiri in porta a nostro favore il doppio dei tiri totali a nostro favore ma non avevamo fatti i conti con la regola delle reti in trasferta che ancora esiste per la Coppa Italia al primo anno l'Atalanta è impiegata anche in Champions League ed è un girone tutto sommato che poteva essere complicato per noi perché becchiamo Siviglia Monaco Bayern Monaco eppure riusciamo a passare come primi con 5 vittorie e un pareggio siamo strafortunati anche agli ottavi perché becchiamo l'Olympiagos 1-0 all'andata 2-0 a ritorno poi però ci sono i quarti purtroppo per noi però affrontiamo il Liverpool che è sempre una squadra difficilissima e qui con il nostro giocatore che sta ancora dentro l'area di rigore Milner batte e fa il gol del 1-0 che purtroppo alla fine nel doppio scontro peserà tantissimo a ritorno si poteva fare sicuramente di più anche perché avevamo finalmente il fattore campo purtroppo però nonostante l'XTG doppio nonostante i tiri in porta maggiori il nome in campo del Liverpool è stato il portiere che con un 7-6 ha blindato letteralmente la porta e non ce l'ha bene neanche in campionato dove arriviamo secondi ora con l'Atalanta in real life un secondo posto sarebbe anche buono ma su Football Manager una squadra con ICA dell'Atalanta dovresti per forza arrivare a vincere lo scudetto già alla prima stagione questo cosa ci fa capire ci fa capire che la tattica per quanto sia stata costruita per essere il più fedele possibile a quella realmente utilizzata da Regno Herrera necessita di cambiamenti perché così com'è non ci ha portato da nessuna parte zero trofei al primo anno maggio 2023 si conclude la seconda stagione di questa Era Challenge partiamo come al solito dal mercato abbiamo incassato 167 milioni non ci sono state singole operazioni roboanti come nella prima stagione perché alla fine il giocatore più costoso che è stato venduto è Muriel a 26 volendo potremmo anche incassare qualcosina di più su alcuni di questi giocatori ma devo dire che la fortuna di utilizzare l'Atalanta è che hanno letteralmente più di 100 giocatori nella squadra B in prestito non sto scherzando hanno veramente una valanga di giocatori se vi mettete singolarmente riuscite a fare anche molti più di questi 160 milioni sai di fatto che ne spendiamo 190 Bogat però era un acquisto che purtroppo non potevamo non fare perché è un'operazione già concordata poi arriva Guardiol che è uno dei giocatori più forti in prospettiva single è cappato non ha un pia altissimo però insomma è sicuramente utilissimo per vincere un campionato di serie A e però io vi vorrei parlare soprattutto di Cavigalanna magari non in tanti lo conosceranno sto ragazzo ma è veramente molto 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 forte terzino fluidificante che è stato prelevato dalla Spagna guardate che valori fisici mentali e tecnici veramente un terzino fluidificante fortissimo forse l'hanno anche pompato più di quello che in realtà non lo so ma è stato davvero uno spettacolo conoscere sto ragazzo come però vi avevo anticipato a livello tattico avremmo fatto delle modifiche perché non era stato congeniale quel sistema abbiamo mantenuto come vedete più o meno il disegno abbiamo semplicemente corretto la fase di destra anche se non mi ha convinto il tutto perché poi a retrare così in basso Musa ci ha sicuramente aiutato in termini di copertura però mi manca quella progressione quella spinta che alla fine faceva già con un atteggiamento d'attacco comunque con una posizione più avanzata quindi andremo a ritoccare questo aspetto anche nella terza stagione però con il braccino di difesa a destra abbiamo risorto veramente tutte quelle situazioni che ci vedono veramente soffire tanto su questa fascia dopodiché abbiamo messo l'attaccante esterno sull'auti sinistra anziché il trequartista certo un po' meno diciamo simile a quel corso che aveva l'Inter però è anche vero che non ha funzionato benissimo quella scelta per questo engine perché dobbiamo sempre ricordarci che alla fine questo è un videogioco alcune cose funzionano meglio o peggio di altre e dobbiamo alla fine comunque farci i conti resta più o meno tutto il resto così come abbiamo pensato in precedenza tranne per la punta che diventa centravanti perché ci serviva maggiore peso in attacco non riusciamo a fare tanti gol nella scorsa stagione quindi abbiamo risolto così e abbiamo tenuto cosa? Di sicuro non abbiamo migliorato in Coppa Italia anzi siamo uccidi sempre con la cerimone nemico Milan stavolta addirittura ai quarti nella Coppa continentale eravamo impegnati in un giro di Champions decisamente complicato insieme a Bosbo Leicester e Barcellona ma riusciamo a qualificarci come primi ci becchiamo poi alla fine il Sevilla lo battiamo sia l'andata sia ritorno ottavi in cassa quarti di Champions League contro il Manchester 1-0 l'andata 1-1 ritorno passiamo per il rotto della cuffia dopodiché in semifinale 6-0 e sottolineo 6-0 al Bayern Monaco all'andata dopodiché a ritorno ancora 3-1 siamo in finale di Coppa dei Campioni ma prima di venire la Coppa dei Campioni guardiamo la Serie A percorso in Serie A spettacolare 99 punti 11 punti in più rispetto alla seconda il Cabo Canile però resta sempre Ciruzzo il Grande la finale di Champions League è tra Atalanta e Manchester City e adoremo andare a giocare a Istanbul subito parte fortissimo però l'avversario con questo gol di Sterling poi però Kupu Miner per Cavigalana che va fino in fondo mette un cross il portiere esce male e regala il gol del pareggio a Malinowski fortunatissima questa rete ma non è finita perché poi Nianzu lancio lunghissimo proprio stile Inter di Leno Herrera palla per piccoli scavetto gol chapeau per questa Atalanta che batte una squadra decisamente più forte sulla carta giugno 2024 si conclude la terza stagione di questa Herrera Challenge ma ancora una volta il protagonista assoluto è il mercato inaspettato arriva un'offerta che non si può rifiutare Roberto Piccoli 150 milioni al Manchester City io ci stavo lavorando su questo ragazzo e mi sembrava proprio perfetto per come giocavamo un giocatore forte fisicamente che facesse alzare la squadra ma che potesse anche fare un po' di gol e questo ragazzo ha un PA variabile che può essere molto alto se vi beccate quello giusto quindi purtroppo penso che abbiamo beccato proprio quello giusto perché il City ci punta veramente tanto però noi possiamo andare sul mercato per recuperare cosa compriamo? soli tre giocatori Graveberge 58 milioni dall'Ajax giocatore stratosferico dopodiché Martinelli dall'Arsenal anche qui lo conosciamo benissimo altro 22enne e poi Marco Sonato da West Ham 21 anni brasiliano abbiamo preso tutti 21enni 22enni ma per forza perché non possiamo comprare giocatori troppo più giovani ma sempre comunque in stile Atalanta compriamo gente ancora in crescita vediamo cosa abbiamo combinato la stagione inizia subito alla grande con un 2-0 sull'Atalio di Madrid per quanto riguarda la Supercoppa Europea che vi ricordo può essere utilizzata come una delle due coppe che serviranno per sostituire l'Inter continentale che non può essere vinta perché ne possiamo al massimo provare a vincere una visto che il calendario ci porta al massimo al 2025 per quella competizione poi vinciamo anche la Supercoppa Italiana proprio contro l'Inter in finale già ma questa però non può essere utilizzata come coppa per sostituire una delle due intercontinentali quella che invece potrebbe essere utile è la Coppa Italia cosa abbiamo combinato in questa finale contro l'Inter sempre l'Inter dinanzi a noi Leonardo aggancia il pallone quindi la girapessina per Musa che vi ricordo è il nostro Jair pensato a quell'Inter lì fa proprio un'incursione da ala vecchio stile gol dell'1-0 per l'Atalanta ma non è fida perché Gravenber c'è la girapessina pessina per Marcos Leonardo 2-0 dell'Atalanta sull'Inter al 55esimo sembrerebbe essere una partita indirizzata benissimo attenzione però agli errori di impostazione che in questa partita però non ci sono perché Gravenber c'è la fine in fondo e fa il gol del 3-0 per l'Atalanta al 77esimo partita che però si chiuderà qui con la rete di Coopminers 4-0 per l'Atalanta ma non ci fermiamo alla Coppa Italia vinciamo anche un'altra volta il campionato con 96 punti ora ci rimane ancora da vincere un campionato ci rimane ancora da vincere una Coppa dei Campioni ci rimane ancora da vincere un Mondiale per Club ma prima di vedere cosa abbiamo combinato in Champions guardiamo la tattica riaggiornata in questa terza stagione l'unico cambio tattico di questa stagione è la posizione di Yonus Musa che smette di essere centrocampista laterale e ritorna a essere un giardatore da tre quarti ovvero un'ala in supporto chiaramente Jair faceva tutta faccia quindi l'unico modo per avere a che fare con un giardatore che fosse offensivo ma che rientrasse un pochino era l'atteggiamento di supporto ci abbiamo provato a metterlo in questa season anche alla che pressa vi dico la verità però non rendeva poi in fase di spinta quindi con questa soluzione qui che alle volte però ritornavamo a mettere come giardatore campi laterale fuori casa abbiamo fatto cosa in Champions il girone di Champions è perfezione allo strato puro abbiamo battuto tutte e sei le volte Lione Shakhtar e Wolfsburg agli ottavi becchiamo il Tottenham strafortunati perché finisce uno a uno con due espulsi per il Tottenham quindi a ritorno in casa nostra battiamo gli inglesi due a zero ci becchiamo però il Barcellona e perdiamo purtroppo al Camp Nou quattro a tre ma in casa vinciamo 5 a 2 quindi passiamo anche il turno finiamo in semifinale dove vinciamo addirittura fuori casa con il Chelsea il ritorno una una in casa nostra ci permette con una rete di scarto di accedere in finale qua però incontriamo un vecchio nemico numero uno ovvero la finale della Coppa dalle grandi orecchie si gioca a Wembley contro il Liverpool ditemi voi cosa potrebbe mai andare storto palla per Singo che qui fa le veci di Iunus Musa che la mette al centro gol di Martinelli Jair faceva molti assist e qui ne ha fatto uno pazzesco per il signor Martinelli poi però a 94esimo guardate cosa riesce a fare il Liverpool paperona del nostro portiere e difensore che regala a 94esimo a tempo ormai scaduto l'insperato pareggio per il Liverpool si andrà ai tempi supplementari dove tra l'altro non si vede praticamente nulla se non fino al 116esimo stop di Cavigalano palla per Martinelli che la ficca lì il nostro corso ci porta un'altra volta in vantaggio 2 a 1 la partita però non è finita al 123esimo esposito per Martinelli per Damsgaard 3 a 1 dell'Atalanta a Wembley contro il Liverpool luglio 2025 si conclude anche la quarta stagione di questa Arena Challenge partiamo dal mercato incassati 104 milioni soprattutto grazie a Damsgaard che ne copre la metà è andato al Real di Madrid cosa arriva però per il nostro team due giocatori tutti e due veramente stratosferici il primo è Jude Belligam non ci sono parole che possano descrivere la qualità di questo giocatore è forte anche come personalità veramente giocatore geniale che si può mettere in tante posizioni del centrocampo ma anche più avanzato Dominic Slobozai anche questo ungherese è davvero devastante ma lo conoscete sicuramente a tutto sia a livello tecnico sia mentale che fisico e questi sono proprio gli 11 titolari che abbiamo utilizzato maggiormente in questa quarta stagione ma si ritorna lì davanti all'Uomo D'Aria mentre in precedenza avevamo un po' alternato l'Uomo D'Aria con un centroavanti qui siamo ritornati un'altra volta all'Uomo D'Aria perché volevo chiudere l'avventura comunque con un ritorno un po' di più a quella che era stata la primissima formazione che abbiamo fatto che era molto più rispondente rispetto a quelle successive ma che non funzionava benissimo l'Uomo D'Aria è di più il lavoro che faceva effettivamente la punta all'Inter l'Uomo D'Aria sbarra il fluco di gioco ma il fluco di gioco abbiamo visto che non funzionava non rendeva e quindi siamo ritornati comunque a una punta fisica sì perché poi gli attaccanti dell'Inter se proprio vogliamo trovare diciamo l'agono e il pagliaio vogliamo trovare una critica a quella grande Inter era proprio il fatto che la punta lì davanti non segnasse chissà quanti gol comunque Marco Sonardo è stato un sacrificio perché non è un'Uomo D'Aria quindi spero venga apprezzato la stagione poteva iniziare decisamente meglio e non come abbiamo fatto sconfitta in Supercoppa Europea contro United meno male che non contava in termini poi di trofei da vincere in questa challenge vinciamo però la Supercoppa Italiana ancora contro l'Inter 3 a 1 dopodiché abbiamo ovviamente la Coppa Italia e la vinciamo contro il Milan qui ci siamo vendicati definitivamente dei cugini rossoneri con questa vittoria in finale per quello che ci hanno fatto in precedenza e vinciamo anche l'ultimo campionato con ben 106 punti mettendo anche il record storico della Serie A 147 gol fatti 25 subiti miglior attacco sì miglior difesa no perché ci batte addirittura l'Inter con solo i 18 gol subiti non so come ha fatto a fare però solamente 49 gol purtroppo però finisce la magia in Coppa dei Campioni dove usciamo addirittura ai quarti di finale contro il Manchester City perdiamo 1 a 0 l'andata con l'espulsione di Singho e perdiamo anche 1 a 0 a ritorno con rete di Grealish quello che ci rimane per vincere la Challenge è solamente l'Intercontinentale giochiamo il gruppo E contro l'Alali vinciamo 4 a 0 vinciamo anche con il Mineiro 2 a 0 e vinciamo anche ai quarti contro il Real Madrid 4 a 1 è una competizione tostissima il mondiale per club non perché sia realmente forte potrebbe essere complicata sicuramente per la partecipazione delle squadre europee ma il problema vero e proprio sono gli allenamenti perché purtroppo si gioca troppo ravvicinati ora il mio consiglio resta sempre lo stesso avere al massimo la riabilitazione dopo la partita e lasciare sempre a riposo anche perché spesso e volentieri dovete fare i viaggi per andare da una partita e l'altra quindi avete veramente poche sessioni sfruttatele per il riposo perché è l'unica che vi fa veramente recuperare tantissimo la condizione atletica ci vendichiamo contro il City quindi in semifinale per averci buttito fuori dalla Champions League ci resta come al solito il nemico numero uno in finale sempre e comunque Atalanta Liverpool in queste competizioni ma Gravenbercia al 27esimo fa partire l'Atalanta trenino singo per Marco Leonardo 1 a 0 per i Bergamaschi al 37esimo però 10 minuti dopo recupero di Palle Martinelli slalom ma poi passaggio per Gravenbercia che si incumia in area di vigore in diagonale rete del 2 a 0 dei Bergamaschi su Liverpool ma non è ancora finita l'ira funesta dell'Atalanta con Cavigalante che arriva fino in fondo a fare i facchetti di turno Martinelli non riesce ma Marco Sonardo non perdona 3 a 0 e si vince il Mondiale per club finisce quindi qui il racconto della Elenio Herrera Challenge ma vi ricordo che mi trovate in line su quella piattaforma viola con la nuova challenge ed è molto croccante non vi resta da fare che salutarvi con il caffè di Elenio Herrera non vi resta da fare